bentornati nuovo look ma stessa voglia di commentare la juve oggi c'è fiorentina juventus ritorno delle semifinali di coppa italia allora dovete sapere che a noi noi juventini o meglio comunque società juventus la coppa italia non ce ne prega una vega si è visto subito anche all'andata allegri fa tanto sì sì metterò dentro tutti gli altri poi se ce ne erano dentro tre o quattro di quelli che giocano solitamente dai primi minuti era già tanto e infatti ne abbiamo preso poi vabbè comunque c'è anche un salà che era incontenibile però quindi oggi non mi aspetto neanche un granché infatti ho appena dato un'occhiata alle formazioni ho già visto che anche qui un po di turnover ci sarà e quindi vedo duro molto duro la possibilità vedo molto ardua la possibilità di raggiungere la finale comunque ci credo ci credo ci credo che ci credo allora vabbè adesso vi leggo le formazioni allora per la juve che sempre al solito portiere di poppa storari l'insteiner bonucci che linee avrà di dal marchizio sturaro pereira matri e morata tevez non c'è la fiorentina ci risponde con neto salvice rodriguez basanta joachim aquilani matti fernandez borca valero alonso gomez e l'incontenibile sarà pronostico direi un pareggio 0 a 0 1 comunque non credo che passeremo il biondo che fa impazzire il mondo in compagnia della mia mascotte il coccodrillo cronodino che tenterà di portarci fortuna quest'oggi forza ragazzi si inizia inizia dalla partita novità dell'ultimo minuto padorino ha sostituito l'insteiner tra la juve nonostante i continui fischi del franchi la juve non si fa intimonire continua a fare con stesso palla e a pressare a chiudere nella propria metà campo la squadra viola grandi raga sarà 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 gol gol no ah ok con nato la fiorentina sarà sarà incontenibile veramente un mostro sto qua però qualche fallino lo fa anche lui è no oggi oggi non si passa la difesa viola oggi è invalicabile gol di matri gol di matri e andiamo così ragazzi gol di matri 1 a 0 matri a 2 per 2 conneto matri non sbaglia non è in vantaggio e ora si può sperare ora si può sperare un po' di fortuna sui rimpalli però matri a 2 per 2 conneto non sbaglia 1 a 0 ha monito sturano perché ha placato nel vero senso della parola salà che gli stava scappando bene così bene così ma zoppatelo quell'egiziano va là con il tuo piede Pereira 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 no la mette in mezzo e non c'è nessuno la mette in mezzo e non c'è nessuno che sfiga Pereira oggi è migliore in campo insieme a matri Morata si vede poco quando si vede fa qualche conclusione che impensierisce il portiere per il resto comunque buona partita e buona prestazione della Juve matri matri volata sono ribattuta 2 a 0 2 a 0 Pereira 2 a 0 2 a 0 da Juve a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 grandi ragazzi è che non ci speravo grande Pereira grande Pereira Robertino Pereira grandi grandi finisce così il primo tempo 0 a 2 adesso come adesso la Juve sarà in finale incomincia il secondo tempo comincia a salire un'ansia un po' come quella di Dogmund ancora 40 minuti senza subire i gol e sperando di farne qualcun altro questi Fiorentini che ansia che ansia che ansia Bonucci Bonucci sul corner 3 a 0 3 a 0 Juve ci ha raggiunto in studio il mio babbo Uido Meda la palla passa a lui ragazzi siamo in finale il tripete si avvicina c'è una cosa da bandiera? sto rari sicuro anche se a me non piace sto rari però oggi sta facendo bene rosso rosso per Morata ma perché? poi all'ottantasettesimo stai avvicendo già 3 a 0 ma Morata cosa combini? salta la finale e salta la finale sì ma perché poi rosso diretto? cosa ha fatto? si diamanti simulatore nato però così non abbiamo Morata per la finale è un peccato è un peccato è un peccato non aver Morata per la finale Morata saluta il pubblico della Fiesole ridendoli 3 a 0 ragazzi siete a casa siete a casa è finito andiamo in finale andiamo in finale ragazzi scusami questo allora siamo in finale siamo siamo noi siamo in finale e forza Juve ci vediamo al prossimo video grazie a tutti